Allora, ciao a tutti, dal regista e dal direttore tecnico dei lavori Matteo Moni. Allora, siamo qui per dirvi che il musical non si fa più. Trappiamo il musical. Perché ci siamo rimessi troppo e da scavare la matta, quindi tutto dimenticato e tutto, non facciamo più niente. Tutti in compagnia delle chiacchiere. No, no, non è vero, non è vero. Questo è un messaggio che serve a dare la carica giusta. Speriamo, sì. A dare la carica, a fare un po' di chiedenza. Esatto. Allora, stiamo decidendo la data delle repliche. Può variare dal weekend 21, 22, 23 oppure la prima settimana d'aprile. Sì, nel senso, no. Vai, vai. Eh, per? Perché c'è Pasqua. No, perché 3 giuro, come vi ho detto Laura, è Pasqua, c'è la ragione. E ci sono belle notizie che però diremo venerdì. Sì, sì, venerdì. Poi venerdì, vale di sapere se avete problemi per il 21, 22, piuttosto che il 7 e l'8 aprile, perché è venerdì con me. Stamattia che va a Parigi, va a mangiare baguette a Parigi, ci lascia qua. Eh, purtroppo lui, avevamo descritto un po' a tu, la pagina. Poi abbiamo dato il benvenuto a Fadupaci, un gruppo che... era un articolo sul messaggio, era molto importante. Esatto. E... Poi, anche, Michele, Michele, si è operato martedì. Quindi, fatevi tutti gli auguri. Ciao, Michele, Nati, Laura. Mi raccomando, ci aspettiamo, rimettiti. Laura ha dei piccoli problemini al lavoro, però, tranquilla, lo aspettiamo. Con Poloni. Il nostro tecnico, Rich Con Poloni. Noi, fine, troveremo una comunità che mi ha ricavato nel lento. Questo è... Non è stato lento. Stava qui fino a 10 minuti fa, poi è via. Non è stato l'altro. Un rap, c'è non è arrivato. Va bene, no, invece volevo citare anche Ulisse Ruiz Tech, che si sta muovendo molto bene per farci, per far sì che lo spettacolo si rinuncia, si rinuncia, si rinuncia, si rinuncia. Un bel regalino, che venerdì, non lo dice, un bel, un bel regalino. Diciamo che regalone. Regalone. Natale, compleanno. Se tutto va come deve andare, faremo parlare di noi a lungo. Sì, sì. Sicuramente un paese. Speriamo anche di più. E ci abbiamo pure un seguito. Comunque tutto dipendente. Cioè, da noi no, io e Manuele, ma... Da voi. Da voi. Da voi. Anzi, più da voi. Domenica, ballerini. Tutte nude? Allestine. Tutte nude vengono voi per i zoni? Io non le abbiamo supervisionate, quindi non le abbiamo... Non le abbiamo provinate. Peccato, perché ci è venuto tanto umano. Sì, sì. Va bene. Ci vediamo, Verdi. Sì, ragazzi. Il mercato prossimo. No, non vi lo vedo. Il prossimo, però... Matteo, sempre disponibile sulla rete. Fate video, mi fate vedere. Mi carico un po'. Perché non guardo. Va bene. Mi raccomando, studiate. Studiate, studiate. Ciao a tutti. Grandi. Ciao. E... Sto.